È un territorio che mi interessa particolarmente, vedo che ha una struttura stradale adeguata, non ci sono particolari punti critici, non ci sono strade considerate a rischio, però è ovvio l'invito sempre, perenne e permanente alla prudenza. La Polizia Stradale e il Dipartimento della Pubblica Sicurezza non crede e non ha mai creduto alla repressione, alla condivisione degli obiettivi, quindi prevenzione, quindi uso dei sistemi di ritenuta, del casco, delle cinture, velocità moderate e assolutamente mai bere alla guida. Da oggi mi sento brindisino della città e della provincia di Brindisi, ho trovato, come dicevo prima, incontrando gli amici della stampa, che ho trovato una città ordinata, pulita e altrettanto ho già visto quel poco di provincia, mi soddisfa molto e mi piace.